In Regione Campania c'è solamente una trasmissione dedicata alla palla a volo ed è solamente su Teleprima. Ogni mercoledì, ore 21.30, andiamo in diretta per parlare di Volato 2.0 Caserta, targata Golden Tulipro. Quella che potete vedere anche alle mie spalle, Volato 2.0 Time, come dicevamo prima, ogni mercoledì in diretta, ore 21.30, indifferita poi nei giorni successivi a vari orari sui palinzessi di Teleprima. Non possiamo che darvi appuntamento a mercoledì per Volato 2.0 Time. Vi aspettiamo.